scusa ci puoi dire cos'è che hai fatto? a me lo dico imbiancare eh? non ti sto chiamando non ti sto chiamando che cazzo vuoi? non rispondere si fa così lo giù pronto? presenti? adesso si e allora mi stai chiamando tu non ti comprare l'iphone se non sei capace di usare il telefono con la cornetta sai come lo chiamo Stocchetti? uguale telefonino uguale andrea stop eh guarda quando tu chiami no? guarda tu chiami quando tu metti qua siamo gli amici stop questo qua è l'orecchio silenziatori? eh i Vascorossi ma come c'è una ricetta? allora io ti sto chiamando come c'è sempre due se ne usano eh come andrei a te cazzo c'ho il telefono a fare se non facessi oh pietti il numero va bravo fai uno squizio allora Cugi viene ad Amsterdam o no? ahahah non c'è neanche pensato è una risposta di figlio stasera veniva ciò che robbi a giocare giocare? no come no? cazzo di spacco le gambe giocare con Tati con Daniel e che no e per quello ho dovuto chiamare Simone benzinaio e farmacia sesto turno lì per trovare qualcuno a giocare c'è anche un pugio da cagare il cazzo no fammi eh faccio uno squizio 3 3 8 14 43 43 42 8 2 1 37 vai si vediamocene all'otto vai 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 ma anche tu c'è l'iphone io non puoi c'è stato tu qua altra e non farlo in vista eh i sfigatoni che si sono presi tutti l'iphone mi vogliono dare quel cazzo ho capito quello che sembra il cellulare fa il contrario tutti mollati oh tutti mollati tutti con l'iphone no lui come andrea è ansioso voleva cazzo di iphone ci sfoghiamo con la tecnologia visto che qua le donne ci cagano no noi siamo la testa non la metto qua eh forza no cosa non lo faccio non lo vedi no 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 oh ma sai che ascolta mi è arrivata a casa allora me lo metti oh sai che mi è arrivata ahahahah ahahah 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 saluti saluti ok ok